Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo l'enorme piacere, il grandissimo piacere di potervi presentare l'ultimo saggio di Chiara Frugoni, appena uscito per il mulino dal titolo Donne Medievali, sole, indomite e avventurose. Quindi un argomento di enorme interesse per tutti quelli che sono appassionati di Medioevo, ma non solo. Io sono molto contento di poter lasciare subito la parola a Chiara Frugoni che ci parla di questo nuovo saggio. Prego Chiara a te. Grazie mille. Allora in questo libro io continuo il mio solito metodo in cui io metto insieme testi e immagini che ritengo fonti di pari dignità alle fonti scritte, le immagini e quindi è un libro dove le immagini non sono illustrazione ma fanno parte proprio portante del testo. Infatti veramente metà in questo libro di 400 pagine, 200 del testo circa, 200 sono le immagini. Ho cercato di, ho pensato di parlare delle donne nel Medioevo, ma è un libro anche che parla al presente perché c'è un filo rosso che lega il passato a oggi e ancora oggi ci portiamo con noi, anche se sono stati fatti molti passi avanti, una grande disparità rispetto agli uomini. Io dico sempre che vorrei che non ci fosse più la festa dell'8 marzo perché non esiste una festa degli uomini, appunto vorrei che non ci fosse bisogno di festeggiare le donne. Allora facendo un rapidissimo presentazione della prima parte di questo libro io ho esaminato un po' come era trattata la donna e vista e raccontata soprattutto la donna nel Medioevo e ho sottolineato che la Chiesa ha presto abbandonato le parole bellissime e la stima che Cristo nel Vangelo e nei Vangeli tributa alle donne, invece ha portato in primo piano San Paolo. San Paolo che è il grande detrattore perché dice che le donne devono tacere, che non devono insegnare, che devono essere sottomesse al marito. Quindi già da lì comincia questa rappresentazione di una donna inferiore e in più altra cosa che ha fatto la Chiesa è stata quella di caricare Eva di ogni possibile peccato e siccome esiste il peccato originale anche le donne del Medioevo ereditavano tutti i peccati che la Chiesa adebitava ad Eva. Ma soprattutto è successa una cosa molto importante a mio avviso e cioè che alla metà dell'undicesimo secolo i preti non si sono più potuti sposare e sottolineo con forza che si sposavano, non avevano concubini, erano proprio mogli. Ma la Chiesa a un certo punto per poter riavere il controllo su tutti i possedimenti perché spesso i preti avevano figli e quindi i terreni eventuali passavano a questi figli che magari diventavano di nuovo preti, ha a un certo punto deciso che quella che era la compagna del sacerdote, la sua compagna di vita, diventava un'occasione di peccato da cui fuggire e da qui quindi una grandissima misoginia. In più la donna anche nelle sfere alte, anzi forse addirittura nelle sfere più alte della società, era ancora trattata peggio perché allora diventava veramente una pedina nelle alleanze matrimoniali muovendo patrimoni e poiché il matrimonio è diventato un sacramento soltanto alla metà del undicesimo secolo veramente queste donne venivano spostate, rimandate a casa, risposate con una disinduttura veramente tragica. Io nel libro parlo di una ragazzina di undici anni che già a quell'età era già stata sposata quattro volte a partire da quando aveva quattro anni. Quindi una rappresentazione veramente negativa e non va meglio se ci rivolgiamo ai predicatori, ai pedagoghi, a chi ha scritto di donne perché si pensava che la funzione principale della donna fosse quella soltanto di essere una buona madre, una madre prolifica e quindi che fosse assolutamente tempo perduto quello di se una donna avesse voluto imparare a leggere, a scrivere, quindi le bambine non venivano mandate a scuola a meno che già si pensasse di farle monache. E qui allora si apre un altro capitolo della felicità del monastero, mentre noi possiamo pensare che queste fossero e che erano donne incluse, ma in realtà il monastero nel Mondio Evo era una possibilità estremamente positiva per una donna perché prima di tutto non veniva maltrattata, non veniva picchiata, non veniva violentata, poi aveva sempre da mangiare, non partoriva, quindi aveva un'aspettativa di vita molto più lunga perché le donne morivano sia di parto ma soprattutto delle complicazioni dopo il parto, dato che non si sapeva assolutamente nulla di microbi, quindi tutte le malattie che potevano, delle infezioni che capitavano dopo il parto e quindi una donna, una ragazza, una ragazzina anche con talenti, poteva solo nel monastero avere una stanza per sé, come ha detto Virginia Woolf, e quindi la capacità di poter esprimere i suoi talenti e di poter non solo leggere, studiare, ma anche scrivere. Quindi ci sono tantissime monache straordinarie nel Mondio Evo. Nel mio libro io ho fatto una piccolissima scelta decidendo di raccontare, soprattutto dal punto di vista umano della loro vita privata, la storia di cinque donne che ho scelto in maniera un po' emblematica, ma vorrei subito sottolineare che non sono solo queste cinque donne e queste donne appunto, come dico, sono indomite e avventurose, ma ce ne sono tantissime. Ho fatto soltanto una scelta e ho cominciato con Radegonda, che quindi è una monaca, anzi un'ex regina monaca di 1500 anni fa, quindi sono andata proprio molto molto indietro, che è una donna straordinaria, ma proprio sono straordinarie le fonti che parlano di lei, perché abbiamo da una parte una biografia di Venanzo Fortunato, che la rappresenta come proprio la futura santa, quindi una monaca assolutamente ascetica, che fa delle penitenze tremende, proprio si brucia, si ustiona, fa cose terribili. Però per fortuna abbiamo invece un'altra biografia scritta da una consorella, Baudonivia, la quale invece ci dà tutto un altro ritratto e quindi intanto sottolineo il fatto della rarità di avere una biografia scritta da una donna in quel tempo, ma soprattutto il fatto che essendo una consorella non soggiace al genere a geografico della biografia della futura santa e allora ci mostra tutta un'altra persona che è allegra, gioca ai dadi, ha soprattutto una grande influenza politica perché lei si ricorda di essere stata regina e quindi cerca assolutamente di far far la pace ai re nel periodo in cui lei è vissuta, che era un tempo assolutamente brutale e terribile. E poi siccome per esempio Venanzo Fortunato era anche molto goloso, scopriamo che lei preparava dei buonissimi piatti che Venanzo riceveva, lodava con delle poesie e lei stessa rispondeva con delle poesie in latino, quindi una donna estremamente colta e poi ancora una donna piena di affetti e lo si vede per come tratta le sue monache e anche per alcune, non so proprio se definirle, visioni, ma comunque in cui lei parla di Cristo come un uomo pieno di affetto, di delicatezza e quindi c'è proprio, si vede una donna capace proprio di affetti del tutto umani. E poi abbiamo ancora la fortuna, sempre per Radegonda, di avere una biografia figurata che ci mostra proprio tutta la sua personalità, la sua capacità di curare le monache, di per esempio proprio la sua grande attenzione per i malati e le malate, quindi lei fonda una serie di ospedali, ospizi ospedali, in cui però lei si dedica proprio a queste cure, così come cura sia le sue monache ma anche appunto tutte le persone laiche. Quindi una donna molto complessa e estremamente energica e piena di talenti. Dopo Radegonda passo a parlare di Matilde di Canossa, una donna che tutti noi ricordiamo per l'episodio di Canossa quando Enrico IV si inginocchia per chiedere il perdono a Gregorio VII ed è una donna che vediamo che ha proprio sacrificato tutta la sua vita anche personale per la Chiesa e quindi si sottopone per esempio dei matrimoni politici terribili e estremamente infelici. Lei ha 40 anni, sposa un ragazzino di 15 anni, tra l'altro impotente, certamente neanche avvenente perché viene proprio detto il pingue. Quindi è una donna estremamente infelice e io ho cercato proprio di vedere questa sua infelicità nella sua storia. Il padre è assassinato, due fratelli vengono assassinati, il primo marito anche viene assassinato, cioè lei vive una vita veramente terribile. Eppure è una donna capace di mettere insieme eserciti che ha avuto una funzione veramente molto importante nella vita politica italiana. Dopo Matilde ho parlato di una donna che in realtà non è mai esistita ma che ha terrorizzato la Chiesa per tre secoli e che è appunto la papessa Giovanna. E questo è molto interessante perché ci fa vedere proprio il terrore che la Chiesa ha rispetto alla donna che voglia accedere al sacro. e cosa che appunto dura fino ai giorni nostri perché una donna oggi non può neanche diventare diacono, quindi proprio la grandissima paura. E questo lo si vede in questa storia dove ovviamente ci deve essere un fine terribile, ma dove però possiamo vedere questa storia di questa ragazzina che lascia la a casa perché si innamora di un giovane, un giovane molto corto, va ad Atene, impara il greco, il latino. Questo giovane purtroppo muore e lei continua però per la grandissima passione che aveva nello studio, in abiti maschili perché altrimenti non avrebbe potuto insegnare, continua questa sua carriera di studiosa. E viene a Roma, viene eletta Papa e quello che io sottolineo è che nella storia per due anni funziona come Papa benissimo, quindi è una donna bravissima che è capace di essere addirittura a capo della Chiesa. Ma naturalmente bisognava che finisse male perché era impossibile che una papessa potesse continuare e quindi il diavolo interviene, lei soggiace ovviamente essendo donna alla libidine e quindi durante una processione lei era incinta e non aveva calcolato bene i tempi, nasce questo bambino e viene barbaramente uccisa lei e il bambino. C'è qualche variante ma insomma va sempre a finire malissimo. Ecco, però appunto dicevo è estremamente interessante proprio per questo suo percorso biografico anche se appunto non è mai esistita. Poi ancora mi sono occupata invece di una di Christine de Pisan e qui siamo arrivati al 400. Questa donna che è rimasta vedova con un carico familiare molto pesante, però avendo avuto la fortuna di avere un padre che era medico astrologo presso la corte di Carlo V in Francia lei è una donna sapiente che ha letto tantissimo e si accorge di poter scrivere e di avere anche molta fortuna. Quindi lei diventa una scrittrice che mantiene tutta la sua famiglia con le sue opere e l'altra cosa per cui ancora oggi è piacevolissimo leggere le sue opere, in particolare una, La città delle dame, nelle quali lei prende la difesa delle donne e con grandissima ironia e grande intelligenza ribatte tutti i luoghi comuni sul fatto che le donne secondo gli uomini sono esseri inferiori e pieni di tutti i soliti vizi che vengono a loro addebitati. E lei è proprio addirittura un'imprenditrice nel senso che ha talmente successo che ha una piccola squadra di minatori e anche di scribi che trascrivono le sue opere e lei stessa poi di queste ne parla e appunto è veramente un grandissimo piacere vedere queste sue opere che sono anche mignate e lei stessa poi anche guidava i minatori dicendo quello che voleva e nel libro io faccio vedere anche una cosa molto interessante nel fatto che c'è stato uno sbaglio per cui chi trascriveva il testo per sbaglio ha anche trascritto un pezzetto di quello che Christine de Pisan voleva come miniatura quindi abbiamo proprio una specie, un biglietto che le aveva scritto per dire come doveva essere fatta la miniatura per sbaglio è stato trascritto quindi abbiamo sappiamo anche come lei si governava nel appunto nel non solo inventare queste storie ma anche nel vederle e volerle illustrate e ripeto questa città delle dame di cui nel libro cito vari pezzi è veramente una lettura ancora oggi estremamente piacevole proprio per la sua ironia e intelligenza e alla fine mi sono dedicata a Margherita Dattini da Prato moglie del grande mercante Franco Dattini che è una donna che ha un marito sempre lontano anche parecchio infedele e molto imperioso però questo marito sapendo quanto questa moglie fosse intelligente e brava praticamente le chiede e ottiene che lei diriga una specie di azienda a Prato quindi lei si deve occupare sia dei campi o degli arancetti quando innaffiarli quando no fare il vino fare l'agresto e poi continuamente lui le chiede che lei invii cose da mangiare biancheria pulita, codici e insomma c'è una corrispondenza praticamente giornaliera con questo marito molto imperioso e continuamente gli dice ricordati, ricordati e lei controbatte anche a tanti rimprogri che le fa il marito in maniera sempre molto anche puntuale e veramente sapendo veramente rispondere molto sempre a tono lei comincia questa corrispondenza che ci è rimasta, abbiamo 150 lettere scritte da lei le prime, diciamo una grossa parte, sono dettate perché lei è una semi-alfabeta analfabeta scusi e quindi lei doveva dettare ma a un certo punto per potere quindi era in grado in realtà di leggere quello che era scritto in gotico quindi le preghiere le sapeva però queste lettere che erano invece scritte in mercantesca non riusciva a leggerle e neanche a scriverle però allora per far vedere al marito quanto lei fosse in realtà brava impara da sola a leggere questa grafia e anche a scrivere sempre da sola e quindi abbiamo anche una quantità di lettere scritte da lei e quindi quelle appunto dove non c'è più l'intermediario sono molto più intime molto più belle perché lei si sa esprimere e lei purtroppo non poteva avere figli mentre il marito ne ha vari naturali da varie schiave però ecco alla fine questi figli naturali muoiono uno dopo l'altro finché sopravvive una bambina che lei accetta di accogliere in casa e che si vede proprio alla quale si affeziona tantissimo e che vive tutta la vita con lei poi si sposerà, si chiama Ginevra e anche in una pala dove sono rappresentati appunto tutta la famiglia i committenti accanto a Margherita Dattini c'è anche questa Ginevra ecco e in queste lettere noi possiamo vedere da una parte la sagacia, l'ironia con cui sa rispondere ma dall'altra anche la sua umanità la sua capacità di comprensione perché a un certo punto c'è una lettera sulla quale io mi soffermo a lungo perché pur non essendo esplicita ma si capisce benissimo è successo che è morto un altro di questi figli naturali e lei ha delle parole veramente molto commoventi molto umane verso la madre di questo bambino morto e quindi lei capisce il dolore sia del marito ma anche di questa donna che è stata provata del bambino e quindi proprio vediamo questa donna che è capace di una grande comprensione e empatia verso gli altri ecco la mia conclusione è che ripensando a questa mia scelta devo dire che avrei voluto riconoscere queste persone mi sarebbe piaciuto moltissimo parlare con loro perché proprio sono donne certamente lontane ma anche a noi così vicine e io penso che, spero, che i lettori, le lettrici che leggeranno il mio libro potranno riflettere e forse anche cercare di migliorare questo rapporto grazie ti ringrazio ancora tantissimo e spero di avere occasione di vederti presto in qualche tua conferenza che sono sicuramente ancora più coinvolgenti ed emozionanti di queste videoconferenze presentazioni grazie mille grazie ancora ti ringrazio grazie un saluto grazie a tutti